ma tu sai che io non tradirei non tradirei che cosa un ragazzo si chiama che mi muore la vita manco dal pensiero e per una volta che decido di divertirmi con la complicità di un amico dico fai una volta ma la portatura mi devo sposare basta che te ne sposi una sola l'altra non è sposiva stiamo completamente ridinendo quella cosa sull'intelligenza e lo dobbiamo fare ridinata per sempre buonasera benvenuti siamo al teatro olimpico aspettiamo l'intervento al salotto di aracne di max tortora della signora cruciani che sono i protagonisti di mamma non ce n'è una sola e intanto naturalmente facciamo un po di chiacchiere con i nostri amici ma se mi consentite tutti vorrei con il vostro aiuto ricordare una persona che è scomparsa qualche giorno fa che ho avuto modo di conoscere e di stimare era una persona nonostante i privilegi della sua nascita nome importante illustre casata teatrale privilegi di fama sempre molto schiva molto sobria molto riservata gli debbo anche della gratitudine personale perché il mio libro più importante non importante perché l'abbia scritto io importante perché ebbi il privilegio dieci anni fa di mettere le mani in un archivio molto importante e molto prezioso mi ha aiutato sospendendo le prove che stava tenendo con il suocero francesco rosi ricevendomi per autorizzarmi a utilizzare i testi di eduardo autorizzandomi a riportare tutto un materiale prezioso mai prima riproposto in volume e incoraggiandomi in tutti i modi non ha avuto un rapporto facile con il mondo del teatro che gli rimproverava forse di non essere grande come il padre ma questa è una storia di famiglia di una grande famiglia teatrale e la famiglia c'entra molto col nostro talk show di stasera questa persona era è luca de filippo bene le famiglie c'entrano sempre fra un po i nostri attori ci racconteranno i temi dello spettacolo ma abbiamo ospiti importanti che possono dare giudizi possono offrire riflessioni possono farci capire come certe dinamiche non solo familiari ma anche sociali hanno poi un riscontro nella vita quotidiana e nell'analisi di tutti i giorni vi presento i nostri ospiti a partire dalla mia destra la dottoressa flaminia bolzan che è psicologa e criminologa è consulente di parte in molti casi giudiziari importanti possiamo dire che si è occupata non vorrei violare la sua riservatezza si è occupata di recente di un serial killer quindi non sono solamente i film americani a occuparsi di questo è vero flaminia alla destra di flaminia il dottor mario dominola che è pubblico ministero a dominola quindi era sbagliato l'accento mario dominola è pubblico ministero della procura di roma si è spesso occupato di reati soprattutto di criminalità economica e questo naturalmente ci incuriosisce molto su certi snodi del rapporto fra politica e criminalità che anche a roma come sapete sono ormai di pubblico dominio in particolare gli facciamo gli auguri perché da sette giorni è presidente dell'associazione magistrati nazionale magistrati di roma e del lazio e quindi è stato eletto dai suoi colleghi quindi evidentemente è un titolo di onore di merito alla destra del dottor dominola una presenza abituale il nostro fil rouge del talk show il dottor gioacchino onorati editore di aracne per l'editoria cartacea ma editore che ci sta a cuore per l'editoria televisiva per questa sua figura di imprenditore illuminato a gioacchino onorato poi chiederemo qualcosa su un'altra grande famiglia ecco una famiglia però un po particolare rispetto a quelle di cui ci occuperemo alla mia sinistra un altro gradito ospite è il dottore erminio carmelo amelio anche egli pubblico ministero presso la procura di roma si è occupato e si occupa di antiterrorismo e di reati contro la pubblica amministrazione vorrei cominciare proprio dalla dottoressa bolzan perché evidentemente già gli snodi tipo pochad dello spettacolo di stasera tra famiglie allargate strani intrecci familiari amorosi amicali sono un modo per riflettere e anche sorridere su certe problematiche su certe situazioni ecco ma molto spesso una psicologa e criminologa si trova ad avere a che fare con famiglie che presentano delle dinamiche tutt'altro che divertenti vero flaminia questo capita molto spesso perché le famiglie sono un cuacervo di relazioni le stesse relazioni che poi noi tendiamo a riproporre e a coltivare all'esterno ma la mia riflessione di oggi comincia da un aspetto che penso sia fondamentale che cos'è la famiglia e come ce la rappresentiamo perché si è perso moltissimo il concetto di famiglia tradizionale per capirci quella composta da una mamma un papà due figli un cane e una fiat duna oggi ci troviamo sempre più spesso a scontrarci oppure ad andare incontro ad alcune realtà in cui i genitori possono essere dello stesso sesso oppure in cui ci sono due genitori che si sono separati ma sono in buoni rapporti e ognuno magari ha il proprio compagno con dietro il suo vissuto i suoi figli le sue abitudini e a volte ci si può trovare bene tutti insieme altre volte invece si verificano quelle situazioni in cui io molto spesso mi trovo a lavorare dove non sempre c'è di mezzo l'aspetto penale ma ci sono delle separazioni gravemente problematiche dove i bambini si trovano un po ad essere degli oggetti un mezzo che fa sì che vadano avanti gli scontri ed è per questo che proprio in tempi recenti si dibatteva sulla realtà scientifica o meno di una cosa che si chiama pass che è la sindrome di alienazione genitoriale e che forse i magistrati qui conoscono ed è un qualcosa che non è riconosciuto sempre ma che purtroppo esiste e che spesso i genitori collocatari mettono in pratica ed è un qualcosa di cui io dico forse bisognerebbe iniziare a parlare di più perché effettivamente è un comportamento che nuoce molto ai bambini lo spettacolo di questa sera è centrato principalmente sulle mamme e magari poi vedremo quanto è significativo il ruolo di una mamma nello sviluppo e nella crescita corretta di un bambino e faremo magari anche tante risate su delle mamme bis che sono le suocere ma dal mio punto di vista come anticipavo prima non possiamo non riflettere su quelle che sono le problematicità delle famiglie e magari dopo mi piacerebbe sentire anche le vostre opinioni sulle vostre famiglie su quello che avete vissuto e sulla realtà che avete immaginato da figli per i vostri figli che avete oggi e qui passo di nuovo la parola al professore grazie la dottoressa bolzano sembra un'eterna studentessa ma attenzione a non trovarvela come consulente di parte perché è iper professionale farebbe vedere i sorci verdi a qualunque magistrato ed ecco la parola ai magistrati ecco dottor dominola si occupa di criminalità economica ha una grande esperienza alla procura di roma a volte la stessa parola famiglia in certi contesti apporta in sé un'ombra di criminalità le famiglie mafiose le famiglie che anche di recente presso l'opinione pubblica hanno celebrato funerali in cui simbolicamente mostravano la trasmissione generazionale dell'attitudine al crimine ecco tutto questo dottor dominola come è visto dal vostro angolo visuale la prima riflessione che mi viene da fare la seguente è una domanda cioè se uno nasce una famiglia che ha attitudini addentellati malavitosi può emanciparsi io sinceramente non lo so penso che invece chi ha il papà rapinatore ci sono elevate probabilità che diventi rapinatore proprio lui perché questo vede a casa secondo la mia esperienza ma penso pure quella di erminio purtroppo è così ci sono tanti tante situazioni in cui il padre era nostro cliente e il padre il figlio lo è pure e questo è un aspetto però questa è una vecchia questione cioè in pratica è una questione di fortuna sfortuna chi nasce in una famiglia sana anche anche umile però sana c'ha le possibilità se nasci in una famiglia in cui esiste già una caratterizzazione un certo tipo di criminoso criminologico probabilmente c'hai molte meno possibilità questa è una prima cosa poi ho sentito una una riflessione sulla famiglia su come sta cambiando la famiglia la il la coppia non eterosessuale adesso voglio fare una riflessione come come cittadino come persona al di là del fatto sono magistrato ci occupiamo del diritto del di una coppia omosessuale ad avere un figlio poter avere un figlio poter crescere un figlio e la questione è guardata da questa visuale no la visuale del diritto dei grandi però secondo me bisognerebbe guardarlo dall'altra parte cioè forse un ragazzino ci avrebbe diritto a crescere una famiglia normale perché se no e mi riaggancio a quello che ho appena detto la sua è una un angolo visuale viziato cioè così come chi c'è il padre rapinatore probabilmente farà le rapine uno che c'ha due papà e penserà che la normalità sia quella ecco questo è un aspetto secondo me andrebbe un attimo valutato grazie molto interessante anche la riflessione del dottor dominola ancora un magistrato ma ecco dottor amelio la capacità nel diritto anglosassone dei giudici di essere essi stessi creativi ecco non è più importante nell'evoluzione sociale rispetto ai nostri sistemi nei quali voi vi trovate a giudicare a volte su pacchetti legislativi troppo vecchi soprattutto con riferimento a un tema come quello della famiglia che in continua costante quasi quotidiana evoluzione si ora rispondo subito a questo dicendo che in realtà proprio il tema della famiglia diceva mario prima per le necessarie evoluzioni che ci sono e che ci sono state che probabilmente ci saranno quasi ha imposto al legislatore una necessità di legiferare anzi io dico che la pratica è andata oltre cioè è andata avanti prima della legislazione e la legislazione poi ha seguito in realtà quello che in pratica si faceva poi noi per esempio in italia ma rispetto ad alcuni altri stati siamo come dire da un punto di vista dell'evoluzione della normativa siamo forse un po un po indietro almeno per quanto per quanto mi riguarda poi è chiaro che ognuno di noi abbiamo un concetto di famiglia un concetto di di educazione che che è diverso e che io ovviamente rispetto quando non non è come dire confacente al mio o sulla mia stessa lunghezza d'onda quindi proprio per questo io non parlerei più di famiglia ma parlerei di famiglie è molto interessante la domanda che faceva prima sulle famiglie mafiose io ho lavorato per diversi anni a palermo mi sono occupato di famiglie mafiose ebbene quella non è la famiglia padre madre figlio o figlia è un altro concetto di famiglia quindi che però esiste perché anche quel tipo di famiglia risponde a certe regole per esempio di educazione cioè nel senso che io e mia moglie educhiamo nostro figlio in un certo modo il capo mandamento il capo decina educa i soldati quindi che sono come dire potremmo dire tra virgolette i figli di quella di quella famiglia mafiosa a comportarsi in un certo modo cioè io con l'esempio lo educo educo mio figlio a comportarsi nel rispetto della legalità da altre parti questo concetto di famiglia educa ad un altro ad un altro modo ad un altro modo ad un altro modo di comportarsi quindi io credo che il concetto di famiglia forse è restrittivo io parlerei di famiglie poi probabilmente anche nel nello spettacolo di stasera vedremo che c'è una che c'è una famiglia però a un certo punto si inserisce questa famiglia un po si si divide per per esigenze di lavoro interviene un'altra un'altra persona e quindi quasi si ricostituisce un altro un altro nucleo che non è diciamo propriamente la famiglia che intendiamo marito moglie ma un altro nucleo che che vive che vive e che pone in essere una serie di altre di altre regole naturalmente avete già capito anche dalla sintesi accennata dal dottor amelio lo spettacolo di stasera è uno spettacolo di comicità intelligente non volgare ecco un po all'americana e che ci pone una serie di riflessioni ma già stiamo sicuramente imparando una nuova terminologia ecco i nostri magistrati la nostra psicologa ci fanno riflettere su un nuovo uso di terminologie legate alla famiglia intanto parliamo di famiglie al plurale è già una prima regola a enzo casertano prego uno dei protagonisti dello spettacolo di stasera allora enzo noi stavamo dicendo che enzo stavamo dicendo che se è vero che di mamma non ce n'è una sola ce lo dicevano gli amici magistrati e la nostra amica psicologa di famiglia anche non ce n'è una sola ecco che cosa combinerete sul palcoscenico voi naturalmente ancora dovete vedere lo spettacolo stasera è praticamente questa è una classica famiglia anche un po bigotta che viene però ci sono varie situazioni che rendono la vita difficile a questa famiglia bigotta perché c'è il marito che max tortora che contro che contro i figli contro la religione contro tutto quello che è la moglie e la suocera il mio personaggio è quello dell'amico di famiglia che cerca di distrarre tortora il marito approfittando di un viaggio della moglie all'estero per un master organizzando la solita cosa tra amici con ragazze di scinta eccetera però a un certo punto interviene la suocera poi si scoprirà una cosa fondamentale nella trama dello spettacolo che non dirò perché perché è una sorpresa io sono stato catapultato adesso siamo a mezz'ora quindi devo andare a truccarmi a vestirmi in questo in questo discorso posso parlare della mia famiglia ma la mia famiglia sono napoletana una famiglia tradizionale mia mamma e mio padre sono stati 60 anni insieme molto però capisco che attualmente le famiglie sono più di una i bambini si dividono tra una casa l'altra anche i miei nipoti perché ho mia sorella separata eccetera però non ci vedo nulla di male anzi vedo una crescita i bambini che a scuola hanno i genitori che stanno insieme sono quasi strani tutti quanti io stasera dove vado a casa di mamma no a casa di papà magari ci hanno i giocattoli di la vengono più più coccolati stanno pure meglio adesso lo so se il discorso che stavate facendo era contro quello che sto dicendo io però diciamo che il il succo io mo sto stanchissimo che stamattina abbiamo girato il film con max tortora ho dormito quattro ore però ce la metterò tutto per farvi divertire stasera questo vi posso dire grazie buon divertimento ho detto tutto stronzate però diciamo grazie grazie a enzo casertano avete visto che bastava un riferimento alla propria famiglia e già veniva su un natale in casa cupiello molto particolare con tutti i vari elementi vorrei ritornare per un attimo a un tema che ci sta particolarmente a cuore prima di far concludere gioacchino onorati con il racconto di un di una particolare famiglia ancora non riveliamo quale ecco vorrei da voi una battuta su un problema che ci agita già da tempo ecco il rapporto fra famiglia e religione la lettura degli eventi terroristici recenti ci riporta ad analizzare un concetto elementare la società multietnica multireligiosa è ineluttabile piaccia o non piaccia a volte non ci piace a delle conseguenze a delle scaturigini di tipo molto particolare ecco però la famiglia quando è una famiglia interreligiosa pone una serie infinita di problemi giuridici giudiziari psicologici sempre dal vostro angolo visuale questa problematica della nostra società che ci darà sempre più preoccupazione questo è un aspetto molto interessante perché massimizza tutto quello che ha a che fare con il conflitto e con il senso di appartenenza ce l'ha a partire dalla famiglia e si ripercuote molto nella società perché quello che è successo a parigi quello che quotidianamente si verifica nelle banlie è un qualcosa che ha a che fare con gli immigrati di seconda e terza generazione che hanno un passaporto francese ma non si sentono francesi perché non sono accettati non sono integrati in una società che propone dei modelli molto lontani dai loro il terrorismo il fanatismo tutti gli atti di violenza vanno ovviamente criticati vanno repressi ma la critica deve essere ragionata ed io per chiudere vorrei utilizzare una frase di qualcun altro una frase di un maestro che è fabrizio di andrè che nella sua canzone la città vecchia diceva se non sono gigli son pur sempre figli vittime di questo mondo e noi anche se è un pensiero un po' utopico dovremmo provare proprio a cambiare questo mondo che non è più un mondo permeato da valori che si coniugano con gli aspetti di quella che dovrebbe essere l'educazione per i nostri figli e delle famiglie io ho ascoltato anche quello che ha detto amelio le famiglie sì mi è piaciuto anche quello che ha detto l'attore perché in effetti ci sono famiglie con separati dove ci sta un nucleo da una parte poi il nucleo si allarga dopo un inizio di tensione poi diventano tutti amici ci sono più nonne più mamme messa così non è male molto più seria la questione dell'inserimento di chi è di un'etnia diversa in un ambiente culturale che non gli appartiene io non so dovremmo cambiare noi però non so in che modo francamente mi sembra un'indicazione abbastanza generica questa se volete ve le do di più specifiche allora sì grazie mi allungherei moltissimo cito un'esperienza personale quello che io faccio mi occupo anche di pedagogia speciale pedagogia dell'inclusione delle persone che sono quotidianamente affette tra virgolette da un disagio sociale a volte fisico a volte psichico si parla spesso di adattamento ed è brutto il termine adattamento perché non sono gli altri che si devono adattare dobbiamo essere noi in grado di creare delle azioni e soprattutto delle forme mentali che aiutino tutti a concepire un concetto di inclusione dove tutti possono entrare dove tutti si devono integrare se ognuno di noi è disposto un pochettino a scendere a compromessi con se stesso capisco che questo sul piano giuridico possa essere molto complicato ma farlo in termini di psicologia in termini di sociologia in termini di relazioni viene molto più semplice e parte dal quotidiano quindi quando noi guardiamo qualcuno che ha il colore della pelle diverso dal nostro qualcuno che magari non può camminare perché ha una menomazione invece di guardarlo come un diverso da noi pensiamo che potremmo esserci noi in quella situazione pensiamo che magari scuro o giallo non vuol dire diverso ma vuol dire che si presenta sotto un'altra forma e già questo può essere forse un buon inizio poi per le soluzioni concrete scriviamo progetti di ricerca e le portiamo da un'altra parte io questa sera parlo sempre al plurale come dicevo prima che ci sono le famiglie ci sono le società e noi dobbiamo pensare che non siamo più un nucleo ristretto non siamo più l'Italia non siamo più Roma non siamo più la nostra famiglia siamo un insieme di famiglie un insieme di città un insieme di stati siamo le società che ne formano una più grande quindi essendoci miliardi di persone ognuna con una propria individualità ognuna con una propria sensibilità ognuna con un proprio credo religioso è chiaro che il credo religioso di ognuno non dico che può scontrarsi perché a me questo termine non mi piace in quanto da ognuno dalle istanze di ognuno dal credo di ognuno l'altro chiunque altro può trovare deve trovare sicuramente arricchimento quindi questa pluralità la società aperta o le società aperte che ci sono ci pongono davanti a questo problema che è un problema intanto di di vivere quotidianamente tutte le tematiche e queste le possiamo risolvere come diceva la nostra psicologa ponendoci noi nella pelle degli altri vestendoci con i vestiti degli altri ma io oserei dire di più credendo e non solo pensando che non c'è un diverso che chi ha la pelle scura o nera o gialla o come vogliamo non è un diverso perché già nel momento in cui diciamo a lui ha la pelle scura stiamo facendo stiamo creando delle barriere è un essere umano è una persona è una persona come me non ha importanza se sta vestendo con i jeans se ha i capelli se non li ha se viene dal dal Senegal o dalla Finlandia o da un'altra parte quindi è un problema di integrazione che noi dobbiamo sempre più migliorare sempre più accentuare e in questo anche ovviamente la tematica della religione questo da un punto di vista sociologico personale è quello che si vuole da un punto di vista giudiziario è chiaro che è un poco più difficile no? e perché per esempio bisogna fare delle norme no? e quindi è ovvio che poi soprattutto in Italia noi abbiamo nel nostro Stato nel nostro territorio c'è un altro Stato che è lo Stato Vaticano quindi proprio l'essenza della religione cattolica e quindi noi c'è anche un problema di questo tipo però se noi riusciamo ad avvicinarci uno con l'altro e a rispettare e pensare che il credo religioso dell'altro arricchisca noi possiamo fare possiamo vivere molto meglio certo non è bello quello che accade per esempio mi sembra in un paese di Brescia o in altri paesi dove si vieta una cosa perché potrebbe far male ad un'altra persona che è di religione diversa bisogna cercare di far sì che tutti quanti possano possano esprimere il proprio credo religioso e soprattutto far sì che non ci sia gente che speculi che speculi su queste vicende che ci toccano nell'intimo perché quello è il credo è la fede e la fede mia sicuramente non è migliore o superiore di un islamico o di un induista o di chiunque altro è un credo religioso che bisogna rispettare Mentre ringrazio Erminio Amelio Mario Dominola e Flaminia Bolzano vorrei affidare le conclusioni a una nota lieve lieve leggera ma brillante quindi a Gioacchino onorati fra un attimo noi possiamo andare alla buvette del primo piano del teatro olimpico bere qualcosa nell'intervallo mangiare qualcosa alla crosticeria sarà sicuramente una serata interessante lieve leggera ecco ma diceva bene Mario Dominola poco fa noi a volte non abbiamo le risposte ecco non abbiamo ancora la capacità di interpretare qualcosa che poi sarà codificato in una normativa domani perciò aiutateci a leggere i segni della società dobbiamo interpretarli per poter avere una capacità di giudizio ecco questo è stato per esempio da parte di un magistrato un atto di grande onestà intellettuale ecco che la società e la lettura di essa ci diano anche gli strumenti per poter capire l'evoluzione e quindi giudicare ecco c'è una famiglia in Europa che non alimenta solamente il gossip internazionale ma alimenta un vero e proprio giro d'affari poderoso ed è la famiglia reale inglese ecco Gioacchino perché ti chiedo di parlarci della famiglia reale inglese in questo momento a te le conclusioni il salotto di Aracne non fa lezioni accademiche non pontifica crea degli spunti di riflessione perché poi con voi possano essere approfonditi grazie Gennaro beh perché noi abbiamo recentemente pubblicato un libro che si intitola Elisabetta II di Francesco Di Leo giornalista di Radio Radicale ed è un libro che sta avendo un enorme successo naturalmente Elisabetta II non potrebbe non averlo però vista l'occasione visto che hai rilanciato su Mario Dovinola e io mi trovo perfettamente d'accordo su quello che dici cioè sulla grande capacità riflessiva che ha Mario Dovinola che molto spesso e si è detto in un convegno pochi giorni fa in corte d'appello lui non c'era si era allontanato piuttosto che un PM appare anche un giudice cioè con una forte capacità riflessiva ecco mi vorrei riallacciare al concetto di famiglia che diceva lui e cioè al fatto che praticamente se si nasce in un determinato ambiente poi è difficile modificare determinati atteggiamenti ecco io come dire ho avuto un'infanzia riallacciandomi anche a quello che dicevi all'inizio alla Romanina la Romanina una borgata molto nota e quindi ho avuto contatti perché sono stato a scuola ho giocato a pallone con tante persone che sono famose per fatti di cronaca negativa diciamo e devo dire che mi sono confrontato tante volte con questi ragazzi miei amici che purtroppo delinquono e ogni volta che ho affrontato il discorso sulla loro condotta mi hanno sempre fatto comprendere come loro considerassero i loro comportamenti non antigiuridici cioè dei comportamenti giusti quando io gli chiedo ma perché vai a rubare quella macchina la risposta è la vado a rubare perché quello ce l'ha e io non ce l'ho e sappiamo benissimo che è sbagliato però in quelle famiglie è impossibile veramente che avvenga un cambiamento ancora in equilibrio fra analisi sociale ecco Mario Dominola con un concetto prima ha dato un input di analisi sociologica del diritto ma anche pensieri lieti di gestione di famiglie che in qualche modo ci appartengono e che anche quando sono un po' complicate e difficili da gestire in qualche misura possiamo riuscire a sopportare a tollerare e anche a inserire nelle nostre vite quotidiane tolleranza innanzitutto grazie buona serata grazie 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 grazie